A IF parlerò del logotipo di artista, ammesso che io sia un artista, ma più che altro della calligrafia inserita all'interno del graphic design e del suo aspetto più sintetico e anche più difficile che è quello del creare un logotipo, quindi soltanto tramite le lettere esprimere un concetto e addirittura una filosofia che di solito è dietro al brand o al cliente che ti richiede il logotipo. Cercherò di spiegare come ci si approccia a questa arte attraverso il mio lavoro.